Oggi durante il primo giorno di Id, un'importante festività musulmana, tre rocket sono stati lanciati in direzione del palazzo presidenziale durante la cerimonia religiosa. Qui dal nostro ospedale a Kabul abbiamo sentito bene l'impatto di questi rocket perché ci troviamo a poche centinaia di metri dal palazzo presidenziale. Infatti dopo pochi minuti abbiamo ricevuto i sei feriti, i più gravi dei quali sono al momento in sala operatoria. Dal primo maggio la situazione è in netto deterioramento ma soprattutto nelle ultime settimane dove i combattimenti si sono intensificati in quasi tutte le province dell'Afghanistan e soprattutto nelle province limitrofe alla provincia di Kabul e quindi stiamo ricevendo molti più pazienti rispetto al normale. I nostri tre ospedali in Afghanistan stanno lavorando giorno e notte in quanto il numero di pazienti è in costante aumento su tutti e tre gli ospedali, soprattutto alla scarga nel sud del paese dove la situazione sta deteriorando notevolmente.